Buona giornata amici, buon inizio settimana, eccoci pronti per la rassegna stampa del giorno, a vedere cosa scrivono i giornali per quanto riguarda il weekend che è appena scorso, appena terminato e vediamo subito qual è il santo del giorno ed è un santo molto famoso, un santo romagnolo che però è importante anche per quanto riguarda le Marche e San Pier Damiani, uno dei personaggi della chiesa più importanti dell'undicesimo secolo. Espresse la sua vocazione entrando nel monastero camaldolese di Fonte Avellana, un'orasi di pace splendida tra i monti dell'Appennino, proprio qui non molto lontano dalla costa. Ammò la povertà, le preghiere, la penitenza, lo studio delle sacre scritture, fondò vari romitaggi e fu nominato nonostante questo dal Papa a Cardinale e anche vescovo di Ostia. Compì numerose missioni in Francia e Germania e riuscì addirittura a distogliere il ricottavo dal divorzio. Poi pregò il Papa di ridurlo a semplice fraticello e finì i suoi giorni nella cella del convento di Faenza, si spense nel 1072. Insomma è un anticipatore di quello che poi sarà l'angelo della povertà San Francesco. Ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo come il tempo sulla nostra regione sta cambiando. Dopo il tempo mite dei giorni scorsi vediamo che insomma il tempo si sta rannuvolando, nubi in aumento con piogge sparse dal pomeriggio. Le schiarite arriveranno da nord in serata, la temperatura comunque è in calo e la temperatura oscillerà dai 7-13 gradi rispetto ai 14-15-16 dei giorni scorsi. Il sole questa mattina sta sorgendo adesso, sorge alle 6.58 e tramonterà alle 17.45. Vediamo subito le notizie dei giornali a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. Si parla di politica, si parla di controversie di carattere politico, la maggioranza seria una svolta, ora balena allo spettro di una crisi, afferma il Corriere. Infatti l'ASET continua a essere un po' il motivo delle divisioni sia interne che ovviamente tra maggioranza e opposizione. Su ASET fine delle ambiguità tra la giunta di oggi e il consiglio di domani. Il Partito Democratico mozione come il programma. Ci sono dunque importanti iniziative, una di queste è questa sera, alcune componenti del Partito Democratico e non tutte si ritroveranno a confrontarsi con i sindacati nell'ex chiesa di San Sebastiano a Bellocchi. Il fatto che alcune componenti siano escluse la dice ancora lunga sul fatto che all'interno del PD non si sia ritrovata l'unità di intenti. E poi tutto questo si riverbererà nel Consiglio Comunale dove appunto si parlerà della famosa mozione sottoscritta dal Partito Democratico, dalla lista civica in comune e da un altro partito che è i Cinque Stelle. A questo punto è una mozione importante perché dovrebbe troncare ogni discorso per quanto riguarda una fusione di ASET su marche multiservizi. Insomma un no netto e preciso. La maggioranza seri dunque ha una svolta. Vediamo le altre notizie. Simone morte avvolta nel mistero. La comunità è sotto shock per l'operaio. Si tratta di un 46enne che è deceduto nel corso di un incidente stradale che si è verificato sabato a terre roveresche. Forse è colpito da un valore. Si valuta ogni riscontro. Questa mattina si saprà se verrà richiesto appunto un riscontro diagnostico e se verrà concesso direttamente nulla osta per i funerali. Nulla ancora dato il nulla osta per il funerale. Insomma non è stato ancora dato. Il sindaco Marchetti ci aveva parlato poco prima per quanto riguarda appunto Simone Tomassetti deceduto a 46 anni, morto sabato sera a terre roveresche. L'articolo di fondopagine è invece dedicato ad una ricercatrice fanese. Si tratta di Francesca D'Addio, una delle menti illuminate per quanto riguarda la ricerca sul diabete. Diabete è insulina, la scoperta della ricercatrice fanese. Uno studio internazionale che è stato pubblicato in una rivista di grande spessore, di grande divulgazione, di grande serietà alla guida del team appunto che ha fatto questa scoperta. Una scoperta importante che potrà dare un contributo molto importante alla ricerca per sconfiggere questa terribile malattia. Amarotta colpisce la sorella con un coltello, una bomba di sonniferi per morire. Lui 83 anni ed è in più serie condizioni rispetto alla sorella che ne ha 79 e che è stata da lui accoltellata. Lui infatti ha ingerito, pensando, riflettendo su quanto aveva fatto, dei barbiturici. Entrambi sono ricoverati a Fano e al Torrette di Ancona. L'Aziano è in coma ed è il fin di vita. Convinto di aver ucciso la sorella, era rientrato in casa ingoiando molti barbiturici. Gravi le condizioni della sorella, ferita con un fendente alla spalla, con un coltello da cucina. Da anni i vicini lamentavano il protrarsi di continui litigi appunto tra i due fratelli. Si è trattato di una lite per futili motivi e sfociata in una violenza per un rapporto che nelle ultime settimane si era fatto sempre più teso. Amarotta a sottopasso delle rane, un cantiere buio e pericoloso. Illuminate le transenne, la minoranza solleva il caso in consiglio. Vediamo anche Senigallia, dove purtroppo è accaduto un dramma allo stadio. Derby, batticuore, lui ha un infarto. Sciocca allo stadio per un tifoso iesino. Il sindacalista Lorenzo Morganti, di 48 anni, è stato soccorso al Bianchelli dopo il gol della Vigor Senigallia. È stato colto da un infarto. È stato subito chiamato il 112. Il 112 ha così mandato un intervento dell'ambulanza del 118 e l'uomo è stato trasferito con un infarto in corso in emodinamica all'ospedale di Torrette in codice rosso. Si è trattato di un principio di infarto subito trattato con tempismo e professionalità. L'uomo ovviamente è ancora ricoverato. Passiamo ora alla pagina di Pesaro, dove si parla di speranze per quanto riguarda la rinascita del commercio operato dalla crisi e dalle difficoltà, crisi economiche e della difficoltà di carattere sanitario. Il commercio torna a vivere non solo in centro e al mare. È un auspicio dell'assessore che, dati alla mano, conferma l'apertura di nuovi esercizi che coinvolge anche le periferie. E pensa però ad un tavolo anticrisi allargato e permanente per affrontare l'emergenza del rincaro bollette. Insomma, è un'analisi quella che viene fatto dall'assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci. Un'analisi dei dati del 2021 che mostra come, da un lato, le cessazioni e dall'altro le nuove aperture si registrano numeri in graduale crescita, ovvero c'è un saldo positivo. A gennaio 2022 gli esercizi commerciali attivi e presenti in centro storico a Pesaro sono 539, di cui 48 nuove aperture. I subingressi ed attività già esistenti, che nel frattempo hanno cambiato gestione, mentre 14 sono state le chiusure registrate di piccole attività artigianali. Insomma, sono dati importanti su cui riflettere e su cui magari vedere se è possibile incentivare un esercizio rispetto a un altro. In zona mare, tra il 2021 e l'inizio del 2022, restano attivi 120 esercizi commerciali e di questi 10 sono nuove aperture, 4 subingressi e 6 sono le attività chiuse. E poi c'è il resto di tutta l'attività nella periferia del commercio di vicinato, al commercio al dettaglio, che vede 943 attività operative, di cui 39 aperture, mentre 23 sono le piccole attività chiuse anche a conduzione familiare. Dati che fanno sperare appunto in una rinascita, in uno sviluppo del commercio appunto pesarese. Per le silicate più sicure una rotatoria non basta, lo afferma il Comitato Consolare Flaminia, che chiede di portare avanti il taglio delle corsie. Vediamo in questa fotografia le tre corsie che ci sono appunto nella Statale 16, nel tratto delle silicate, sono corsie che invitano a correre, a aumentare la velocità per cui la loro riduzione potrebbe così indurre a più miti consigli gli uomini al volante. Dopo l'incidente della scorsa settimana sulle silicate tra una Porsche e una C4, con una signora di origini bolognesi, ma residente a Cattolica, uscita con ferite giudicate guaribili in 20 giorni, il Comitato Consolare Flaminia irrompe nel dibattito che si è acceso in merito alla sicurezza di quel tratto stradale. Lo fa con forza, lo fa perché vuole assolutamente indurre gli automobilisti a assumere un atteggiamento più sicuro, più moderato per quanto riguarda la loro velocità. In quest'altro articolo invece si parla della piscina del Parco della Pace che va in stand by. C'è il responsabile Andrea Sebastianelli, presidente della società Sport Village, che ha chiesto cinque anni di pausa, invece il Comune gliene dà soltanto tre. Le condizioni sono queste, insomma si dovrà un pochino accelerare per quanto riguarda il ripristino di questa struttura. E poi sulla Valle Foglia emerge l'operato della Proloco al lavoro per i giochi tra i quartieri Proloco nel ricordo di Bezziccheri, l'attività senza soste per il gruppo Montechiese e il presidente Tonucci presenti con i nostri eventi. Ebbene la Proloco è protagonista nell'organizzazione di molte iniziali iniziative di divertimento ma anche di beneficenza nel territorio. È in programma nella prossima primavera la Sagra della Polenta, ma anche i giochi tra i quartieri, il cui team organizzativo ha già cominciato a riunirsi in queste settimane. Intanto circa un mese fa proprio la Proloco di Montechio è stata protagonista di un bel gesto di solidarietà che ha compiuto nei confronti della Caritas in occasione della festa dell'accoglienza. Ebbene in quella occasione sono state donate alcune carrozzelle all'associazione alla Caritas che le usa per le persone che hanno bisogno, insomma che sono in difetto di mobilità. Ad Urbino si evidenzia un lutto, muore il giorno del ricovero. Si tratta di Silvio Cecchini, morto a solo 58 anni, poche ore dopo il suo ricovero in pronto soccorso per alcuni problemi, quanto purtroppo complessi, afferma appunto il giornale. Dolore e sconcerto all'Università Carlo Bo di Urbino per l'improvvisa scomparsa di questa persona che era molto stimato per quanto riguarda appunto il suo apporto sull'informatica della Università dell'Ateneo. Eutanasia legale, un grande lavoro di sensibilizzazione, c'è una raccolta di firme avvenuta anche a Urbino, il referente, non ci fermeremo. Ecco appunto il banchetto per la raccolta delle firme che contesta la decisione che ha assunto la consulta per quanto riguarda il referendum che doveva essere realizzato. E veniamo ora al resto del Carlino. Il resto del Carlino apre la sua pagina di Pesaro con il problema dell'ex AMGA, questa superficie che deve essere ancora bonificata. Ci sono ancora acque inquinate nel sottosuolo e quindi è una superficie che destra ancora molti problemi. Però insomma sembra che qualche progresso si stia facendo. Ecco perché è stato tolto il telo nero partita la bonifica naturale. L'assessore all'ambiente Eidi Morotti si stanno mettendo micro-organismi serviranno a garantire agli alberi che verranno piantumati la giusta vitalità. E questo è un provvedimento così che desta qualche curiosità. siccome l'area insomma non è molto molto adatta alle piantumazioni per quanto è avvenuto gli idrocorburi che si sono riversati insomma il problema dell'inquinamento allora per sostenere la vitalità degli alberi che verranno piantumati, alberi che dovranno poi incentivare la bonifica dell'area con le loro caratteristiche vegetali ebbene per far questo si mettono anche dei micro-organismi le acque sotterranee risultano ancora inquinate e da qui parte la sfida delle piante spazzine ecco piante spazzine piante che aiutano la bonifica del territorio. Consumi virtuosi Pesaro vola nella top 10 acqua, gas e luce l'ente comunale è giunto quinto su 92 capoluoghi di provincia in ambito nazionale Urbino si piazza soltanto invece all'ottantunesimo posto la città più virtuosa è risultata essere Parma che si è guadagnata il massimo dei voti per quanto riguarda tutte e tre le voci di spesa 619.944 euro per l'energia elettrica 156.369 euro per le bollette dell'acqua 215.801 euro per il gas completano la top 10 di questa classifica virtuosa Reggio Emilia Rovigo Brescia Pesaro Pordenone Sassari Catania Pescara e Carbonia insomma Pesaro è tra i più bravi a livello nazionale insomma un quinto posto non è da trascurare per l'ospedale prove di normalità si parte dall'apneuno poi si arriva a chirurgia il reparto trasferito a Pesaro a novembre da ieri è tornato a Fano e a marzo saranno consegnati i lavori che consentiranno di recuperare gli interventi dopo due anni nel frullatore l'azienda si riorganizza ancora due anni nel frullatore perché poi i reparti sono passati tra Pesaro e Fano tra l'ospedale a Santa Croce l'ospedale San Salvatore e vediamo come pneumologia soprattutto che era a Fano poi è andata a Pesaro è tornata a Fano è tornata a Pesaro ora ritorna definitivamente a Fano definitivamente è un aggettivo da prendere con le molle e poi si procede con gli interventi per quanto riguarda chirurgia invece dopo la prima ondata il reparto non è stato più spostato mantenendo l'attività con buoni numeri cioè l'attività principale che si svolge a San Salvatore di Pesaro dunque mantenendo nuovi numeri dicevo mantenendo l'attività con buoni numeri pur con le difficoltà legate alla mancanza di anestesisti necessari nei riparti Covid insomma sono stati trasferiti gli anestesisti là dove c'era l'emergenza Covid un'ulteriore spinta potrebbe però arrivare da metà marzo quando saranno consegnati i lavori antisismici e si recupereranno a San Salvatore oltre agli anestesisti visto che è rimasto un solo reparto attivo di rianimazione 30 posti letto in più per la chirurgia mentre a Fano resterà l'attività minore in dei sargeri dunque le operazioni principali si svolgeranno a San Salvatore mentre le operazioni secondarie si svolgeranno appunto a Santa Croce si rinnova l'ordine dei commercialisti ma sembra che all'interno dell'ordine ci siano dei problemi lite contro attacco a balestrieri due liste in campo per questa nuova diciamo così gestione rispetto al passato un'altra novità cioè che il voto è valido anche da remoto altra cosa questa che ha alzato il livello dello scontro due liste e quindi anche un modo nuovo di esprimere il proprio voto ieri il presidente uscente Paolo Balestrieri che appoggia la lista della continuità che vede come candidato il fanese Marco Lucchetti ha parlato del suo mandato indicando anche una continuità al vertice dell'ordine senza citare la presenza di una seconda lista e questo ha mandato un po' in bestia diciamo così ha fatto saltare la mosca al naso quei professionisti che appoggiano invece la candidatura alla presidenza di Maurizio Sallese della lista professionisti insieme ed eccolo Maurizio Sallese candidato alla presidenza dell'ordine dei commercialisti il branco sradica nell'area verde di via Frassini alla Torraccia tre panchini nel parco per fare salotto hanno sfondato questa casetta in legno hanno sradicato le panchine ma sono stati notati da alcuni residenti che hanno chiamato le fozze dell'ordine e poi sono scesi loro stessi appunto sul parco e alla vista appunto di queste persone i ragazzi circa una ventina si sono deleguati sono fuggiti è morto un grande artista mio fratello si tratta di Fabrizio del Grande lavorava il rame a sbalzo che vediamo una delle sue opere l'incredulità del congiunto per il gesto si è suicidato gettandosi sotto il treno aveva 83 anni si è suicidato l'altra mattina nei pressi di via Lamarca il fratello Carlo di 75 anni lo ricorda Fabrizio era depresso da qualche tempo e insomma la malattia questa malattia perché la depressione si può considerare una vera e propria malattia lo ha indotto a questa drammatica fine gravissimo l'82enne che ha coltellato la sorella lei è salva e questo è l'episodio di cui abbiamo parlato prima dell'uomo che ha ingerito dei barbiturici dopo aver accoltellato la sorella lui è in fin di vita ed è più grave della sorella che è stata ferita però non è ancora in grado di spiegare i veri motivi di quanto è accaduto in quest'altra pagina si parla dell'incidente mortale che si è verificato nei pressi di Sant'Ippolito sabato scorso si tratta di un 45enne del luogo appunto Simone Tommassetti di 45 anni che è deceduto appunto mentre guidava la propria auto e si deve decidere se si fa l'autopsia o meno se eri in visita al Santa Croce in occasione della seconda giornata nazionale del personale sanitario socio-sanitario socio-assistenziale del volontariato il sindaco di Fano ha voluto portare il proprio ringraziamento e quello di tutta la città al personale del pronto soccorso di Fano ieri ricorreva peraltro l'anniversario del primo caso di Covid che si è evidenziato a Cotonio e quindi si è celebrata la festa di tutti coloro che poi con tanta abnegazione si sono impegnati per curare i positivi da Covid e quindi la visita di serie al pronto soccorso di Fano è stata come un voler dire grazie a queste persone che hanno sfidato anche con la propria salute la propria vita la pandemia in atto ancora ad Urbino l'Ateneo piange Cecchini il sindacalista generoso il funzionario della Università è morto a soli 58 anni per anni si è battuto come come RSU ovvero l'organizzazione sindacalista interna nel rappresentare le stanze dei lavoratori del suo comparto per quanto riguarda Fano si parla della mozione per dire no alla fusione Aset e Marche Multiservizi Giacomoni del Partito Democratico dice però non apriremo alcuna crisi questa è una dichiarazione convalidata anche dal segretario del Partito Democratico della Dora priorità è concludere l'iter e individuare il partner per il biodigestore si sa che a questo proposito ci sono alcune ditte che hanno aspirato a vincere la gara che è stata appunto bandita dall'Aset ed è questa ancora in corso di verifica e di analisi e appunto il risultato da parte della commissione giudicante vediamo ora le notizie di sport vediamo che per quanto riguarda il calcio del nostro territorio è andata male sia per la Visse che per il Fano Calcio Visse ha perso per 2 a 1 la partita con il Cesena Visse che peccato il Cesena festeggia nel finale i biancorossi partono male vanno sotto con rete di Bortolussi poi la reazione a segno va a Saccani ma Candela fa esultare e le manuzzi con il raddoppio vediamo i commenti di Banchini a casa con l'amaro in bocca dice l'analisi del tecnico loro sono una grande squadra ma non hanno dimostrato di essere superiori a noi Alma Fano KO si sveglia solo nel finale e l'Alma ha perso in casa con il Chieti per 0 a 1 il Chieti espugna col minimo scarto il Mancini e adesso la sconfitta dei Granata rende sempre più difficile la risalita in classifica ovvero siamo veramente in basso vediamo qui l'Alma con 23 punti la prima in classifica è la Re Canatese con 44 e vediamo come appunto la situazione del Fano Calcio è molto molto precaria in fondo alla classifica i punti sono poi condivisi con il Castelnuovo Vomano sempre a 23 e con il Castelfidardo a 23 punti lo stesso indietro c'è solo il Nereto a 12 e l'Alto Casertano a 3 punti era l'ultima notizia a questo punto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani sempre alle ore 7 e per le notizie del giorno vi dà appuntamento alle 20.30 di oggi con Occhio alla Notizia condotto da Simona Zonghetti questo è veramente tutto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti